Benvenuti in un nuovo video e benvenuti in una nuova recensione. Oggi siamo qui per provare tre prodotti Fitbon, scusatemi ragazzi, sto un po' così e che mi sono svegliata da poco e il mio proprio pensiero è stato ok, Giulia, lavati, preparati e io inizio a registrare così puoi raga editarvi anche il video perché altrimenti questa settimana c'è comunque tutta la programmazione di Pasqua e non sarei riuscita a farvi questa recensione. Ok raga, il prodotto è tanto 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 decantato e io direi di provarlo proprio per primo così. Sto parlando del mitico burro Fitporno, ovviamente raga è un burro di pistacchi made in Sicilia che significa che è stato prodotto in Sicilia con il 100% all'interno degli ingredienti, 100% pistacchi tostati. Quindi, eccolo qui, ve la faccio vedere. Ha un colore abbastanza verde scuro, abbastanza simile a quello là, coro, infatti anche quello è un burro 100%. Vi voglio dire i valori che per 100 grammi hanno 593 calorie, grassi 49 grammi, di cui saturi 6,5, carboidrati 25, di cui zuccheri 7, fibre 10 e proteine 18,2. Quindi non è una crema proteica ma è un semplice burro 100% pistacchi. Vediamo un po' molto simile all'odore a quello, ovviamente raga, cioè non vi aspettate niente di che alla fine aspettatevi i pistacchi, punto, cioè, easy. Quindi, ovviamente questa va girata, è molto densa come crema, tipo io faccio il paragone con quello perché con l'unico, cioè con l'unica che posso farmi il paragone, quella di coro è molto, molto, molto liquida. Questo, vedete, è molto più corposa, molto più densa. Ovviamente la recensione, come sempre, è molto soggettiva, io vi parlo per me, cioè io preferisco le creme ai burri, anche perché specialmente questa qui al pistacchio ha comunque un retrogusto rispetto ad una crema, ovviamente, che ci sono tantissimi altri ingredienti, risulta comunque un sapore abbastanza, molto più amaro, ecco. Io vi faccio tipo quella coro, ok, proviamo. Buona. Vabbè, raga, 100% pistacchio è buona, si sente il retrogusto di pistacchio, ovviamente. Ecco, vi parlo per me, tipo, io i burri li utilizzavo, li utilizzo tanto in estate, perché in estate tipo faccio yogurt, proteine, frutti di bosco dentro, allora, mi piace contrastare quel dolce delle proteine con un burro un pochino più amaro, diciamo, rispetto comunque alle creme spazzate. Quindi, vi dico già che questo lo utilizzerò principalmente in estate per questa cosa, proprio perché a mio gusto personale non amo il sapore dei burri, specialmente di quello del pistacchio, non ho. Tipo, mi piace quello di Anacardi, è molto buono il burro, tipo della Damiano, però questo, devo dire, è molto buono rispetto a quella coro, ha una vena molto più dolciastra. Buono, però, ecco, lo utilizzerei per quelle, non nelle crepe, perché già so che nelle crepe non mi piacerà sicuramente. Però, ragazzi, è buona. Non mi vedete una faccia sorpresa al massimo, perché alla fine mi aspettavo questo sapore, cioè nel senso che ha 100%, cioè se vi piace comunque il pistacchio, le creme al pistacchio e i burri al pistacchio, proprio in generale il pistacchio, faccio prima di dirlo così, direi sì, prendetela, perché sicuramente vi piacerà, però dovete aspettarvi comunque un sapore come quello delle creme, ecco. Ok, però, ragazzi, non male come crema, alla fine, scusatemi, come burro, alla fine ci sto. Ok, andiamo a provare la seconda novità, che sarebbe il cornetto food porn, cioè, ragazzi, è piccolissimo, i valori sono per 100 grammi, ma dovete considerare che il prodotto è da 35 grammi. Quindi, la metà della metà. Allora, per 100 grammi ha 330 calorie, grassi 26, di cui saturi 20, carbidate 8 grammi, di cui zucchero 1,1 grammo, scusatevi, fibre 22 e proteine 16 grammi. Quindi, alla fine, ragazzi, i valori ci stanno, alla fine. Tutto comunque lo carb, quindi non ci resta che assaggiare. Buono! Somiglia molto a quello lì della Ciao Carb, però, quello lì con la confezione arancione. Guarda, è buonissimo! Peccato che per il prezzo è un po' troppo piccolo. 35 grammi è un po' piccolino, ecco. Tipo i quelli della Ciao Carb che sono 50 grammi. È bello, sì. Però è molto piacevole, è buono. Molto buono. Molti come me, non amate i prodotti, specialmente i cornetti per la colazione e lo carb. Questo ve lo promuvo. Andiamo con l'ultimo, l'ultimo prodotto, ed è della Fit Porn che, ragazzi, mi ha completamente pecca. Quella lì, della Skinny, Skinny Food, molto buona. Abbiamo provato il gusto lampone in un blog, che pure la proviamo insieme alla Fit Porn. Come a pistacchio, però, quella era la crema. Fit Porn 0. 93% zuccheri in meno, 85% calorie in meno, solo zuccheri alla frutta amarena. Allora, ragazzi, avete il mio concetto per quanto riguarda queste marbellate in generale? Non vi farò mai un po' come i dolcificanti. Una recensione dove acquisto tutte, perché per me 6 euro, per una confettura, ragazzi, è un po' troppo sincera. Ci spendo anche 2-3 euro in più per una crema, perché è un prodotto molto più particolare, ma per una marmellata no. Quindi, questo è il mio pensiero, e chi mi segue lo sa. Quindi, per me sarebbe stato inutile acquistare tutti e 4-5 gusti, assolutamente no. Però, ho voluto prendere il gusto, a mio avviso, più particolare. Non mi ricordo se c'era anche i frutti di bosco o lampone. Comunque, ho voluto cambiare e prendere questa volta amarena. Allora. Nut valori riduzziati per 100 grammi. 37 calorie, grassi 0, di cui carboidrati 24,3 grammi, di cui zuccheri 4, fibre 10, proteine 0,03. Ok, vediamo. Alla fine, ragazzi, i valori sono ottimi. Perché considerate che non vi mangiate mai 100 grammi. Cioè, un barattolo quanto è? 100-260 grammi. Oddio, si sente proprio di amarena. No, raga, ma io poi adoro la amarena, chi mi segue lo sa, insieme al pistacchio. Molto dolce. Già provo anche un po' di gole. Ma, raga, è fenomenale. Per questo motivo io preferisco prendere anche i gusti comunque particolari. Aspettate. Oh, mamma mia, raga. No, raga, veramente buonissima. Questa è una crossata. A duro, a duro, a duro. E ragazzi, sto pur sempre facendo colazione insieme a voi. Ragazzi, questo è vero che costa 6 euro, ma ce li vale tutto. Perciò, secondo me, ce li vale tutti. Cioè, per me questo è uno dei prodotti particolari che vale la pena acquistare. Infatti, spesso io anche per questo prendo sempre i gusti più particolari. Perché di solito voi mi chiedete, Giulia, hai provato questo tipo di marmellata? Che gusto mi consigli? Ecco, raga, amarena, prendetela ad occhi chiusi. Perché è la fine, la fine del mondo. Cioè, pensate, tipo una crostatina. Mamma mia, duro. Quindi, per me, vi dico già che tra tutti i prodotti che abbiamo provato, il più particolare, in assoluto, il più innovativo, nuovo, proprio come sapore, è stato comunque la marmellata, fitporn. Perché il burro di pistacchi, buono sì, però alla fine, raga, cioè, alla fine è 100%, quindi alla fine forse è stato da sentire un pistacchio. Quindi, non trovo niente di particolare, ecco, in questo burro rispetto all'altro. Le caratteristiche che mi sono piaciute, ve le ho elencate, ad esempio la consistenza, che risulta differente rispetto all'altra. Il sapore è buono, c'è il risultato di pistacchi, quindi alla fine niente di, cioè, di nuovo, alla fine c'è una cosa che mi aspettavo. Quindi, diciamo che con le creme si va più ad occhi chiusi quando vi faccio le recensioni, perché non si sa mai, apro pistacchi, ok, il modo che sape, pistacchi e mandorla. Quindi, là già c'è una preoccupazione minore, maggiore, direi, oddio, non saprò di mandorla, capito? Quindi anche per questo motivo, però devo dire che sono entrambi i tre prodotti abbastanza validi, anche il cornetto molto buono. Quindi, niente, raga, io spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!